E' stato inaugurato dall'Arcivescopo Metropolita Monsignor Giuseppe Petrocchi il centro polifunzionale intitolato a San Domenico Savio, nel territorio del comune di Scoppito, nella frazione di Collettara. Il nuovo complesso è stato realizzato grazie anche ai fondi dell'8x1000 della CEI. L'opera ha avuto un costo totale di 2 milioni di euro, dei quali circa 1,8 cofinanziati nel piano di assegnazione che la CEI distribuisce in favore della nuova edilizia di culto, nelle diocesi del territorio italiano, a sostegno delle attività pastorale nelle aree urbane in espansione. La struttura, progettata dall'architetto Giuseppe Tempesta, ha un'ampiezza di circa 900 metri quadrati e si colloca in una posizione territorialmente vantaggiosa. Provvederà così a soddisfare le esigenze pastorali delle parrocchie di Scoppito e tutte le frazioni aquilane limitrofe. Il centro, fortemente voluto da Monsignor Giuseppe Molinari e dal parroco Dondino Ingrao, sarà un centro molto importante per il territorio, che si propone di essere un centro aggregativo, rivolto soprattutto ai giovani, ma non solo. Un progetto molto importante ed ambizioso, quindi, che valorizza il territorio, dando sempre nuovi stimoli e possibilità ai giovani, creando molta aggregazione.